La nostra è una forma di protesta, ci preme sottolineare la poca considerazione da parte della Regione Veneto e dello Stato centrale nei nostri confronti come terre alte. Come elico superiore alla prova referendaria, il prossimo 30 marzo gli elettori saranno chiamati al voto per esprimersi sulla richiesta di distacco del Comune dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino Alto Adige su Tirol. Una questione storica non trascurabile, lo spopolamento, l'immobilismo del paese abbandonato al suo destino, le ragioni sostenute dai promotori della consultazione. Un paese che perde moltissimi giovani, che se ne vanno, gli abitanti sono passati da 4.000 a 2.000 in pochi decenni ed è un trend in continua crescita. Questo è anche per il turismo, perché il turismo stesso ha dimezzato le presenze in poco meno di 9 anni. Siamo passati da 80.000 a 39.000 presenze. Come per le altre consultazioni referendarie separatiste, sul voto del 30 marzo pesa l'incognita del quorum. La popolazione all'estero è un quinto dei votanti, quindi noi facciamo appello a tutte le fasce sociali, a tutte le età, a tutte le persone, perché si mettono una mano cosiddetta sul cuore. Se vogliamo dare una speranza alla nostra terra, è bene andare a votare. Farsi sentire è l'unico modo per iniziare a smuovere qualcosa, dicono i promotori del referendum, pur nella consapevolezza che fino ad oggi la volontà espressa da chi ha tentato la strada del voto per manifestare il proprio disagio è rimasta inascoltata. In questi giorni sul territorio sono programmati diversi incontri che vedono anche la presenza di esponenti della politica altoatesina. Qui si tratta, secondo me, di rompere un po' il ghiaccio, perché anche il nuovo presidente, Compasher, è un giovane e ha già dichiarato che le minoranze culturali, come è la nostra minoranza ladina, verrebbe rispettata. Per lo meno ci proviamo.